Siamo ai campionati italiani assoluti di Asti, sono con il campione italiano assoluto Elos Manzi che è anche il più giovane in gara, come ti sei preparato per questo appuntamento? Mi sono preparato come tutte le altre gare perché comunque credo che tutte le gare che faccio abbiano la stessa importanza, non c'è una gara che ha più importanza di un'altra Anche una gara in Italia non deve essere sottovalutata, né tantomeno deve essere messa in disparte Bene, miei complimenti e volevo parlare anche del fatto che sei diventato un professionista, questa è la tua prima gara da professionista, che cosa significa per te? Significa l'inizio di un nuovo percorso che però continuerà a essere in sinergia con il mio vecchio club e spero che possa portare bei risultati sia per il mio nuovo gruppo sportivo che per l'Italia stessa Quanto è importante continuare a rimanere vicino al tuo allenatore di origine? Secondo me è importantissimo perché alla fine il maestro di club è il primo maestro e quello che ti seguirà sempre Va bene, ti ringrazio, noi finiamo l'intervista dicendo Italia Judo, lo diciamo insieme Italia Judo Grazie